Il consiglio di Baratti, la sua postazione attiva è questa a destra, Franco del Consiglio, la parola del Consiglio di Francesco Baratti. Grazie, signor Presidente, e buonasera. Grazie, signor Presidente, per aver consentito di essere in questa sise in quanto il consiglio di comunale. Nello stesso tempo, migliorare gli scambi dell'amministrazione sulla base della stituzione, aggiuntami da tutta la maggioranza, e per tre ragioni, non posso restare all'interno la stessa. Corretamente con la decisione della maggioranza, porto il mio consigliere alla proposizione. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Fabio, l'aiuto restare al suo posto? Per questa sera, non è chiaro, spostamento di microfoni. Prendiamo atto che il gruppo di salone al centro, passa a minoranza, che ci deve avere capito bene. Io passo a minoranza, certo. E delettiarete, se il gruppo così è, stiamo ancora a salone al centro, cambiamo. Ammesso che possa parlo, prego. Se posso fare un'interno del gruppo, sì, altrimenti sono anche la donna della vicenda, che è la valutazione della parola segretaria. Signor segretario, prego. E di stasera, naturalmente, così poi, il gruppo politico è di quelli che la rappresentano, a fare le valutazioni del caso. Ringrazio, segretario. Possiamo passare?